Eccoci al donatello, terrazza abitabile, si può mangiare fuori. Soggiorno pranzo con divano letto doppio e aria condizionata, cucinino separato con lavatrice e frigo a doppia cella. Camera matrimoniale, ecco la camera più grande dove attualmente c'è un letto addirittura matrimoniale a castello. Bagno con doccia e finestra. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.